E' stato arrestato il presunto assassino di Antonio Natale, il giovane ucciso con tre colpi alla testa e al torace, il 4 ottobre del 2021 a Caivano, in provincia di Napoli, il cui corpo venne rinvenuto due settimane dopo, in un terreno di campagna. L'uomo arrestato è portato in carcere dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. E' indagato per il reato di omicidio, detenzione e porto di arma da sparo, tutto aggravato dal metodo mafioso. Secondo le indagini, l'omicidio era stato pianificato come punizione per aver sottratto armi, droga e denaro al clan camorristico dei Bevicato, per conto del quale Antonio Natale spacciava droga. Il giovane sparì il 4 ottobre del 2021. I familiari raccontarono agli inquirenti che prima di non avere più notizie, Antonio si era regato a Napoli con un amico per comprare dei vestiti, dichiarazioni poi confermate dalle telecamere di sorveglianza interna dei negozi in cui il giovane si era regato. Il 18 ottobre poi venne ritrovato il corpo in un fondo agricolo appena fuori il comune di Caivano e dall'autopsia era emerso che fosse stato colpito con tre proiettili alla testa e al torace due settimane prima.